E cari amici e cari amiche, eccoci qui. Oggi ci troviamo presso Caffeina Store, per cui per tutti gli amanti del caffè, ma non solo, parliamo infatti anche di tisane, di bevande, di camomille, insomma di tutto ciò, quello che riguarda il mondo affine anche al caffè, che potrete trovare in cialde, in capsula, con le rispettive macchinette per ogni utilizzo. In più, addirittura, potete trovare anche quello che è il caffè personalizzato di Caffeina Store, troverete anche le miscele, che potranno anche in questo caso essere personalizzate, ma soprattutto per poter testare personalmente la qualità e la bontà del prodotto, potete tranquillamente venirci a trovare per una degustazione gratuita. In più, ricordiamo per tutti gli amici che hanno avuto modo di scaricare gratuitamente l'app di Ancheo Spot, basterà scaricarla per avere anche diritto a uno sconto del 10% sui prodotti acquistati. Per cui mi raccomando, venite a trovarci Caffeina Store.